Mi sono ripreso poco fa, non ancora completamente, comunque voglio ringraziare tutte le persone che sono venuti al meetup di Lugano. Avete reso questa prima esperienza in Zwizzera veramente meravigliosa. Altri meetup ci saranno, non lo so quando, però ci saranno. Grazie. Allora, ieri, dopo il meetup, appena Menny ha scoperto che io ce l'avevo il suo indirizzo di casa il suo telefono perché gli ho detto guarda sto venendo a prenderti, ha scappato praticamente di casa e poi lo ritrova, sapete dove? In un locale a Milano. E finalmente oggi siamo riusciti a becarsi a quattro occhi con Samuel e poi dopo con il mio fotografo Silvio. Ho fatto la faccia simpatica per dieci minuti, ho ripreso il mio occhiale e ce l'ho tutt'ora la tua collana. Poio poio, papà, e l'era, you feel me? Come ando a chi? Tu so, bella, no, you feel me? E' il carajo. Allora, appena tornato da pranzo, ero con Samuel e Vlado, per suo rispetto non gli ho tirato due pizze in faccia perché continuo a starmi sul cazzo. E ho dato i socchieli di merda perché continuava a piangere, a guardarmi di merda con i suoi amici, ma cazzo vuoi pussy?